buonasera a tutti ragazzi cascatori oggi direzione isola delle femmine vicino a casa un sconsamo tardo oggi una mega pescata ragazzi la diventiamo mangiamo un mousse un bacio a tutti ci vediamo dopo grazie a tutti grazie a tutti ragazzi siamo arrivati stiamo scendendo l'attrezzatura qua c'è papà di coccolino piacere colonne buonasera abbiamo il nostro morbidone oggi ragazzi mimmo armando come ti chiami domenico domenico è il cugino di coccolino giusto di giuseppe non sei il cugino di coccolino oh tuo cugino tuo cugino manco sape che è tuo cugino dice coccolino chi è? e che è? ti prendiamo da coccolino non è se lo sconso? e niente ragazzi a posto ci vediamo dopo grazie a tutti 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 grazie a e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluto. Grazie a tutti. 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 Sampino. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. 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 agli nostri. a tutti. a tutti. ragazzi ce ne stiamo andando l'ultima canna guardate cosa ha preso un granchio ora lo liberiamo e lo erediamo la libertà ragazzi ha mangiato l'americano ragazzi guardate bel granchetto speriamo che sia mangiato da un ora ragazzi ragazzi pescata armando mimmo il papà di coccolino e su cugino se ne sono la di prima per impegni lavorativi ragazzi allora è stata bellissima ci siamo divertiti abbiamo pescato poco e niente perché ci siamo divertiti abbiamo mangiato abbiamo bevuto un dolcino un caffettino addirittiamo ora l'aspetto letto ora a casa perché domani sveglia presto però ci sono le salute speed sveglia presto e niente ragazzi facciamo al contrario ora facciamo i saluti non vi dimenticate di iscrivervi al canale e azionare la campanellina per seguire la nostra battuta di pesca allora andiamo ai saluti ragazzi intanto saluto tutto il mio gruppo surf casting live palermo surf casting live palermo ragazzi poi salutiamo al gruppo di totò canale matti matti per il surf casting palermo poi salutiamo a danni surf casting italy a giampi surf casting sicilia e al gruppo pescatori della sicilia ragazzi un bacio a tutti ragazzi e ciao no ciao goo ciao 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 bene ciao ciao